Un evento molto importante, innanzitutto si è parlato, si è parlato tra Atenei e questo già è un grande risultato perché è un po' lo spirito che dovrebbe avere ogni iniziativa promossa dalla CRI, essendo la conferenza dei lettori delle università italiane, quindi di tutto il paese. In particolare abbiamo i delegati alla terza missione, chi si occupa di territorio, chi si occupa di pubblica e gage, oltre ad un intervento. Il PNRR è sicuramente stato uno dei momenti di stimolo sul ripensamento eventuale della terza missione, su qual è il rapporto con i territori, su cosa effettivamente stiamo disegnando e costruendo per il futuro del nostro paese. È importante che le università si interligano su questi temi, è importante che le università trovano anche il modo di ripensare in un quadro anche europeo, di ripensare alcune azioni. E sempre in questa scia di collaborazioni nazionali siamo anche orgogliosi di poter ospitare l'evento dell'agosto delle università che lavorano per continuano per sostenere. È un evento nazionale in quanto tutte le università che aderiscono alla LUS si incontreranno, lavoreranno insieme, si scambieranno esperienze e probabilmente questo genererà altre sinergiche per il futuro. Grazie a tutti.